Signori, con questo cambio di fisce entriamo nella fase finale. Questo significa che non si può più rientrare. Il controbuio ora è di un milione di dollari. Quattro giocatori. Sta a lei parlare. Messie Bond. Passo. Passa. Nel piatto ci sono già 24 milioni. Passa. Passo. E passa. Passano tutti. Quattro giocatori. Passo. Passa. Punto tutto. Sei milioni. Punta. Sei milioni. Tutto il resto. Cinque milioni. Tutto il resto. La puntata è sei milioni. Rilancio. Rilancia. 12 milioni. Uno contro uno. 40 milioni. 40 milioni e 500 mila. Tutto il resto. Rilancia. Tutto il resto. Beh, penso che in questo caso la vedrò. vede. Vede. 115 milioni di dollari nel piatto. Signori, prego. Mostrate il punto. Colore. Colore all'asso. Pool. Otto e assi. Non fu il più alto. Assi e sei. Monsieur Bond. Cinque e sette edifici. Scala reale. Scala lotto. La mano migliore. Scala. Hai. La mano migliore. Scala. Vinte. Ha! Buongiorno. Buongiorno.